Adesso andiamo avanti con il prossimo grano. Il prossimo grano riguarda un po' il Natale detto dai qualsiasi genere musicali. Qua troverete brani d'opera, troverete brani classici, troverete brani di figli, per tanti pesettini piccoli, è un brano piccolo questo musicale che vuole dedicare il Buon Natale a tutti quanti. Don Casper parlava di questa chiesa, della storia di questa bellissima e importante chiesa di San Domenico, chiesa che è nel corso degli anni, negli ultimi quattro anni, la vista protagonista è un evento medievale perché qui ci si è venito, oltre al discorso del crucifisso e altre cose storiche di questa città, ci si è venito anche il corpo di Manfredi, il piccolo figlio di 11 anni di Re Federico Terzo d'Aragona, nel 1317. E da questo discorso nasce tutto il contesto medievale che si viene a fare in questa chiesa nel mese di novembre, che è il mese in cui muore questo bambino qui a Radri e Re Federico l'ha voluto sempre dire proprio in questa città. Però eventualmente questo ne parleremo in altre occasioni, perché proprio in quell'omersione della trattata di Medievale si effettua la visita guidata di questa chiesa scoprendo le sue bellezze storiche, culturali e artistiche. Bene, ho detto adesso l'augurio che faremo, farà questo brano dove raccoglierà i piccoli pezzetti di vari brani, di vari generi musicali messi tutti insieme per augurare tutta la musica e buon Natale a tutti quanti voi. Adesso inizio del Christmas, del Natale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.